bella a tutti ragazzi questo video lo sto analizzando per chi gioca da pc e ha una scheda geforce in particolare chiama geforce 2060 per chi vuole giocare con più fps un po più fluido eccetera eccetera premetto che queste sono impostazioni che sto usando per una RTX 2060 quindi mi posso dare certezza che sulla 2060 funziona abbastanza bene sul resto delle schede non saprei dirvelo quindi detto ciò partiamo schiacciamo il tasto destro del mouse e andiamo sul pannello di controllo e nvidia ovviamente chi non ha una scheda geforce nvidia non può non può accedere a queste impostazioni detto ciò facciamo così andiamo sulla prima sulla prima regolazione che sarebbe regola l'impostazione d'immagine e andiamo qua vedete ci sono tre voci lascia decidere l'applicazione 3d usa l'impostazione di immagini avanzate e usa anche la referenza mettendo in risalto detto ciò facciamo così mettiamo usa mia referenza in risalto e mettiamo su prestazioni e si scende su applica detto ciò andiamo alla seconda voce che è gestisci impostazioni 3d che è su gestisci impostazioni 3d scusate e si apre questa finestrella gestisci le impostazioni 3d con due finestre adesso andiamo a vedere le globali sono queste nitidezza immagini nitidezza disattivata anti alias correzione gamma attivato anti alias fx a a disattivato anti alias modalità disattivato buffering triplo disattivato q da gpu tutta se voi andate a selezionare di selezionare la vostra scheda video ovviamente che scena l'attivato dsr fattori off filtro anisotropico disattivato filtro struttura bias lo negativo consenti filtro struttura ottimizzazione campione attivato filtro struttura ottimizzazione selezione trilineare attivato filtro struttura qualità qualità fotogrammi preenerizzati per realtà 1 frequenza fotogrammi massima disattivata gpu rendering open gl selezione automatica modalità bassa latenza disattivata multi frame disattivato occlusione ambientale disattivato ottimizzazione con thread automatico realtà virtuale disattivata sincronizzazione verticale disattivata velocità di aggiornamento preferita io ho messo la più elevata disponibile non controllata dall'applicazione ma la più elevata disponibile detto ciò andiamo su applica cosa che ho già fatto quindi non c'è neanche bisogno che metto su applica poi andiamo sulla seconda sulla seconda finestra che impostazioni di programma vedete ovviamente sempre su fortnite io mi sto facendo questo video dedicato a fortnite queste sono impostazioni per fortnite detto ciò qua ci sono le specifiche delle impostazioni ovvero nitidezza immagine impostazione globale disattivata anti arias correzione gamma disattivato anti arias fx a uso impostazione globale disattivato anti arias modalità sempre globale disattivato buffering triple globale disattivato qda gpu globale tutte cake shader globale attivato filtro anisotropico globale disattivato filtro struttura bias load negativo globale consenti ottimizzazione campione attivato ottimizzazione lineare disattivato filtro struttura qualità prestazioni elevate prestazioni elevate fotogrammi pre indirizzati per la realtà uso impostazione globale 1 fotogrammi massima massima ovvero frequenza fotogrammi massima disattivato frequenza gpu vabbè gpu rende e geforce non è stata la vostra scheda video modalità bassa latenza disattivata modalità di gestione dell'alimentazione preferisci le prestazioni massime ok prestazioni massime multi frame disattivato ottimizzazione con thread attivato sincronizzazione verticale disattivata velocità di aggiornamento preferita la più elevata disponibile ora detto ciò le impostazioni della scheda video per quel che riguarda l'inps sono queste almeno quelle che uso io poi ognuno la regola a modo suo però vi posso dire che con queste impostazioni la scheda video mi trovo abbastanza bene detto ciò passiamo al gioco e vi faccio vedere anche quelle che sono le impostazioni da regolare per avere quel piccolo miglioramento anche sugli fps sull'impostazione di gioco ovviamente questo video è registrato per una scheda geforce 2060 e un monitor da 144hz quindi se avete un monitor da 60hz non so quanto vi conviene aumentare gli fps sulle impostazioni di gioco perchè comunque mettete sotto sforzo il pc e comunque non avete il massimo delle prestazioni poi dipende anche dalla scheda video insomma dipende sia da scheda video che da monitor da tanti fattori detto ciò andiamo su impostazioni e andiamo su impostazioni generali ok allora il limite frame io ho messo 180 fps visto che la mia la mia scheda video con un monitor supportato da 144hz la mia scheda video supporta fino a 175 fps massimo di norma andrebbe bene abbinato a 144 fps sono riuscito a spingere fino a 180 e mi tiene abbastanza costanti non proprio come vorrei però è ancora in fase di sperimentazione quindi in base a quel al monitor che avete dovete regolare la vostra frequenza nel senso se avete un monitor da 60hz spingetevi al massimo provate a 120 a provare ma non so non mi intendo di queste cose perchè io mi intendo su 144 più che altro mettere limitata non ha alcun senso perchè comunque avesse dei picchi assurdi la giocabilità diventerebbe poco fluida diciamo detto ciò andiamo su qualità grafica e andiamo a mettere su preimpostazioni qualità personalizzato risoluzione 3d io tengo a 71% ovviamente solo per questione di registrazione anzi visto che siamo messi qua ma me l'imposto a 60% facciamo così dai distanza visuale io tengo epico per esempio c'è il fatto che c'è un raggio visivo molto più lungo quando hai amici lontani eccetera eccetera quindi ho preferito tornare epico poi ombre assolutamente assolutamente no anti aliasing no texture effetti post processing tutti i lotti e passando a grafica avanzata leasing no motion blur no versione direttiva 12 beta multitread no e debugging di class gpu no detto ciò andate su applica e il gioco è fatto e adesso visto che ho cambiato qualcosina anch'io proviamo a vedere un attimo come funziona più che altro se mi tiene gli fps abbastanza solidi vediamo un po' scendiamo il palco e e che può s s s Grazie. Grazie. Non è che mi piace molto, però... mi piace qualcosa di ancora altissimo male. Va bene, ragazzi. Per questo video è tutto. Spero che vi sia stato utile l'interazione. Alla prossima. Dij.